no eccoci qui vabbè ci eravamo lasciati con queste migliorate la porta scala cazzo non si non si apriva e io ci puoi andare in giro senza lui subito città l'epoca la mia cosa succederà secondo me è che gli acus incasterà in qualche punto con i piedi ecco ti puoi fare eh c'è l'esercito no 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 eh ma se no mi ecco oi incasterò con i piedi non mi ha rotto sì anche il corpo ci richiamo ok madre in father la serie la serie della serie poco filmico bello ok 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 la sua ok eh ok 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 nooo! Ah, mi sa che ci erano questi! Ah, non devi passarci sotto, qualcosa mi dice! No, non devi passare sotto queste bestie! Capito di cui erano? Eccoli! Vai, salta! Occhio! Vai! Oh, parlo, se no! Io non ho fatto! Mi sta saltando in più, non ci sono voi! È una pressione! Allora, continuiamo sempre per terra Allora, qua Occhio! Qua c'è una via in mezzo Sì, ecco Su spuntone le conoscenze Nel vento Dicono una mossa da libio? Come questa? No, bastardo No, bastardo No, ancora qua, vando Si sta per partire No, bastardo No, no Lo trattenuto Oh, oh, oh Siamo in sotto No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no È possibile, allora Non legge una altra via È un falso come si muace Oppure non devi con, non devi saltare Devi saltare Devi camminarci sotto Vai Ok Adesso controlla Perché c'è il mistigabile? Allora, qui Poi dopo Non c'è No, non c'è No No Non c'è allora fanculo cazzo parlo di per la vita come le città Allora riprendiamo il comando Allora, aspettate un attino Ok, il momento toss è finito Allora, forse ho capito Noo, sono arrivati a provanti è difficile molto 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 difficile comunque se volete vedere su come scaricare tourbils vi ricordo di mettere un bel like al video alla pagina di facebook che scriverò nei commenti grazie prego allora questa parte delle puntone è molto complicata non va a girare allora salto 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 allora mmm si stocco allora dai impossibile impossibilissimo allora quindi allora ferma s niente l'ultima volta s s l'ultima 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 c'è messo sei anni a scelta 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 però basta guardare bene schermo l'ultima l'ultima o b c odd l'ultima dov'è un l'ultima è una l'ultima non no ma mi sa che dirà ci sarà un altro ahi dirà c'è qualcos'altro non so che ci senti in topo di nuovo il miei seppia qui parla di questo laggata quindi può dire che qualcosa è successo per me riuscire a pezzarti la torcia un po smessi un po' con un secondo un po' con il discorso quindi se ci stessi l abbiamo come successo il piano con l'inverno il tempo di paolo in un uomo 12 voglio dire che è aperta quindi è aperto che non ho pieno che dico simbolo latino scuola ma scusso di qui qua non pare tutto per quindi non è una cosa che senti se non cazzo ma avrà mai avrà aperto qualcos'altro giù perché giura più ampia come cosa ok quindi no non so che la strada qui o la strada è andata questa cosa? se che sta qui la strada è andata eccole qui ok vediamo se qui dice cosa qui non c'è niente non puoi neanche interagire con i sassi e allora di qui non c'è niente non c'è niente ma allora qui penso che sia sangue con un posto quale tu stess camminando non si vede niente allora è il suo gioco e buio come la morte allora ecco di qua qua apri quella specie di cosa? cosa? eh niente non c'è niente non c'è niente no 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 non c'è niente ah se sicuramente vado a illuminare con l'attaccia col punto là ho visto che la cosa buia e non si vedeva non c'è niente raga ci stiamo a dirlo che noi abbiamo visto neanche un gameplay eh anche perchè nessuno credo che l'abbia fatto completo dai no no non c'è niente di sicuro lei aveva aperto qualcosa ma la cosa non è che sia su nell'altra sala con quella principale ah è vero quindi dici che bisogna andare indietro e signor gecko perchè un po' la voce a drogati come mi è stato uno spazio io ho assoluto no, così stai 10 che c'è mai un bambino un po' poco mi chiede c'è nato vicino fai, vai, 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 si guarda, no, attiva guarda ma è questa l'andata si che è questa l'andata quella che c'è una si che è questa l'andata questa l'andata pai dritto e non cagherà il scasso va bene, hai capito vai dritto e non ti p... o guarda mai un'idea se le insomma bella se la scelta la sala qui con il testo a porto non so ma io quando il prodotto del suo quando il suo mi è conti roccideranno non provare a poco a testo sono ma la ma i nuovi dvd ma non voglio i tini scatenati i monti non c'è l'azione un orologio che è assoluto di simboli benissimo ma io ve ne ricordo vai 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 un coltello in bocca vabbè già capito occhio ah devi saltare in ordine allora prima è questo qui vai vai diritto poi secondo me è questo si l'orologio poi lo ferato qui e finirà la gabbia del uccello e devi trovare una strada se no è giusta la seguenza ah si è giusto probabilmente ci sarà un altro di quella roba lì principale tipo preservativo allora questo bocca uccello uccello vai 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 ah no ecco vedi vai 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 no no mi sa che non è mai salta adesso basta che salti si 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 vada a facca mi piace risolvere gli animi abbiamo una via dritto a destra dritto gli spi un altro segi sempre lo stesso no ah no ah no eh 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 quindi prima c'è quella specie qui allora questo orologio si è giusto è giusto è così eh ok questo orologio salta sull'orologio no si è giusto o no l'orologio era per terzo poi c'era la gabbia poi questo no sbagliato mh ok quindi è quel coso 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 gabbia questo coso bocca coso gabbia questo questo coso 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 qui di là no coso bocca gabbia gabbia bambini c'è c'è tipo un po' di cazzo a questo si coso no c'è questo coso qualcosa coso bocca eh simbolo astuso forchetta orologio gabbia simbolo ah allora di simbolo astuso astruzzo perché è un pochetta prologio gabbie blogger gabbie simbolo strutturale stupi or che è il piatto orologio non voglio cambia campi simbolo strutturale erano su posto per te se lo parola simbolo struttur Forchetta Orologio, gabbia Orologio, gabbia Simbolo astruso qual è? Mi confondo Questo qui, simbolo astruso Poi dopo vai qui sopra Orologio, gabbia Poi ti serve un simbolo astruso Forchetta, orologio Gabbia, simbolo astruso Lì c'è una forchetta E poi salti Vabbè, io direi di fermarci qui Per questo episodio Vi ricordi di mettere un bel like al video Ok Mi sa che la c'è solo sta parte Benissimo Un bel like al video, un bel like alla pagina di Facebook Un bel like al video, un bel like alla pagina di Facebook Iscrivervi e commentare Ciao a tutti Ciao